Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video, né Mookbang, né What I Eat In A Day, né vlog, no niente di tutto questo, sarà un video un po' più particolare, poiché, e sarà anche molto corto, perché comunque non durerà tantissimo, credo, non lo so, perché poi mi perdo a parlare, quindi non lo so, però è un video spiegazioni perché è importante, se no, quindi non si capisce nulla. Allora ragazzi, praticamente io non so come, non so se state notando, ma sto postando veramente, veramente tanti video, molti più in confronto alle altre volte, e la verità è anche il fatto che comunque così i video vengono visti molto di meno, ovviamente perché la persona che magari voleva guardarsi un video di Julia Rainbow e c'è solo quelli di sabato, va a vedersi quelli di sabato, e quindi quel video aveva un sacco di visualizzazioni, invece ora che posto magari anche di domenica, lunedì, così via, se io voglio andare a vedere un video di Julia Rainbow di domenica, vado a vedere quello lì che ha postato domenica, no? E quindi hanno comunque molte meno visualizzazioni, magari sembra anche che non convenga, ma in realtà comunque distribuendo i video le visualizzazioni ci sono, anzi ci sono anche di più, quindi a posto così, però magari ci sono poche visualizzazioni anche perché comunque non avete capito la programmazione, visto che l'ho spiegata molto velocemente in un video con mia sorella del sushi, e quindi oggi un video cortissimo per spiegarvi un attimino come funzionerà il canale di Julia Rainbow per adesso, cercherò di rispettarlo il più possibile, ad esempio la live di giovedì, che dovevo fare giovedì, non l'ho fatta perché è stato il giorno dopo del mio compleanno e quindi era un po' così, e non l'ho fatta, però ragazzi cercherò di rispettare più o meno tutte le programmazioni, voi cercate di rimanere attivi e magari di attivare anche la campanella così vi arrivano le notifiche e non dovete manco concentrarvi a pensare, oh ma di giovedì faceva la live così, ok? E allora, il programma per adesso fino a settembre, perché poi a settembre magari inizia la scuola e sarà un po' diverso perché non riuscirò a fare tutto questo, io ne sono sicura, cercherò di prepararmi un bel po' di video, ma non è tanto semplice, poi comunque anche con la palestra, con tutte le cose da fare, probabilmente dopo arrivato a settembre non riuscirò a fare tutto questo, però ci proviamo noi, ok? Se avete qualche idea magari me lo potete scrivere anche giù nei commenti perché mi fa sempre piacere e sapete che io vi ascolto se mi date le idee e se potete anche scrivere magari qualche domanda che avete da farmi o curiosità con hashtag askjuli scrivete e poiché poi vi metterò nei video, magari con mio fratello farò anche un mukbang quindi è bello che disponiamo alle vostre domande, se vi interessa magari fate anche delle domande per mio fratello e vabbè ragazzi comunque di lunedì io posterò, posterò alle due e mezza ci sarà un video, normale, tranquillo, il lunedì ci sarà un video alle due e mezza, normale, classico. Martedì invece ci sarà una live, le live consistono semplicemente che al verso le due, una e mezza, due e mi metto con voi live a mangiare, ok? Quindi facciamo un mukbang insieme così magari vi faccio anche compagnia se mangiate a quell'orario, se non mangiate a quell'orario mi vedete mangiare, potete farmi tante domande nelle live quindi anche carino e niente, quindi a quell'orario più o meno ci dovrebbe essere una live mukbang il martedì, quindi il martedì non posto ma faccio la live, mentre il mercoledì faccio un video, posto un video alle due e mezza sempre, tutto regolare, due e mezza, il giovedì faccio una live mukbang e anche lì sarà verso l'une e mezza, due, dipende da quando torno in palestra, dipende da cosa faccio prima, comunque dovrebbe essere un'e mezza, due, due e mezza massimo e ci sarà una live mukbang sempre, dove potete fare tutte le domande che volete e poi vabbè comunque nella live parliamo un po' insieme, poi il venerdì invece ci sarà un video normale che ci sarà alle due e mezza, sempre, l'orario è sempre quello lì perché così almeno non confondiamo tutto, poi di sabato invece non posterò niente perché sarà il mio giorno riposo, ok? Tanto di sabato comunque raga siamo tutti fuori e non abbiamo manco tempo di guardare youtube, quindi ci sta che di sabato magari non posto, mentre domenica posto alle due e mezza, come vedete oggi ho postato, alle due e mezza ci sarà un video e se non riesco a postarlo precisamente alle due e mezza, perché ogni tanto può succedere, questo qua sicuramente lo posterò, però ogni tanto può succedere che magari, non lo so, mi scordo, sono un po' scemina io, o magari ho editato un po' troppo tardi, ok? Il video uscirà, uscirà sicuramente al 100%, può uscire alle 4 per sbaglio, ok? Perché proprio mi scordo, può uscire alle 3, ma il video uscirà ogni giorno in teoria alle due e mezza, se non succede così potete anche attendere e aspettare un pochettino perché in quel giorno uscirà il video, fidatevi il mio. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che farò i video alternati, un giorno farò un mukbang e un giorno farò un'altra tipologia, però di mukbang ci sarà ogni due giorni un mukbang, perché sono quelli lì più guardati, per me è molto bello farli, perché è semplice, poi non mi pesa manco, quindi secondo me ci sta, e quindi niente, i video mukbang saranno molto molto presenti, anche di cose, soprattutto di cose sane, perché se ne devo fare così tanti, io in generale nella giornata mangio cose sane, perché appunto ve l'ho detto, sono in una dieta, diciamo, però comunque in teoria dovrebbe poi anche arrivare verso il sabato solitamente, il video mukbang delle schivezze con mia sorella solitamente arriva, quindi in teoria è così. E ragazzi, io mi sono segnata tutto, devo ovviamente ancora postare il video dei regali di mia sorella, e poi lo farò, non l'ho ancora fatto, però sì lo farò, e probabilmente o domani o dopo domani uscirà, no dopo domani no, perché è martedì e sarà live, quindi rimanete attivi, perché martedì vi voglio in live in tanti, poi ovviamente la gente crescerà, ora ce ne sono pochi che entrano in live, perché è l'inizio, ma va bene così, io sono super contenta, anche perché mi piace un po' parlare con voi, abbiamo già fatto una live, poi le pubblico anche su YouTube se poi volete riguardarvele, però ragazzi mi piace tanto fare live con voi, quindi bene così, e vorrei sottolineare anche che usciranno poi tanti ASMR e mukbang, che anche quelli lì, da quello che ho capito, vi piacciono tanto, quindi spero sia una cosa carina da fare, e uscirà ragazzi una challenge assurda, una challenge troppo divertente con mio fratello e mia sorella e mia mamma, raga ve lo giuro super super divertente, diciamo che riguarda il cibo, e sarà un bel po' un disastro, però sarà super divertente, quindi non vedo la idea di guardarmela io da sola mentre la edito, e mentre mi riguarda tutto il video, perché sarà super divertente, quindi mi raccomando ragazzi, usciranno un sacco di video, un sacco di rubriche stupende, quindi per favore rimanete attivi, attivate la campanella e lasciate un like di supporto, perché mi servono i like, perché ovviamente se non vengono poi visualizzati questi video, io non è che posso continuare e continuare e continuare, perché nel senso voglio un po' di condivisioni, anche quello che volete, basta che mi date un po' di supporto, ok? Tanto non vi costa niente lasciare il like all'ultimo, per favore, e niente, spero che comunque questo video non vi sia piaciuto, nel senso che non è che sia un video chissà che, però raga volevo spiegarvi tutta la programmazione, ovviamente se avete dei dubbi potete scrivermi tutto quello che volete che vi rispondo, perché ci sta che avete dei dubbi, sono veramente schifosa a parlare, quindi magari avete un po' di confusione su quello che vi ho detto, e quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un like di supporto, cercate di lasciarli sempre, così a caso, magari vi viene in mente, mentre guardatevi lo giureremo, ma sì, lasciamogli un like, perché mi fate sempre piacere, poi io li vedo i like, e anche un commento se avete voglia, scrivete tutto quello che vi pare, io ovviamente li leggo nei commenti, e niente, se volete seguirmi su TikTok, in cui posto i what I eat in a day, ovvero ciò che mangio, questo qua è il mio nome, oltretutto posto un sacco di ricettine carine che a me, se fossi stata a dieta tanto tempo fa, mi sarebbero servite, perché diciamo che ci sono molte idee carine, e niente, quindi io vi mando un bacio, un abbraccio, al prossimo video, ciao!